buongiorno a tutti amici allora chi lo dice che un videomaker non può avere anche il polodice verde vi mostro un attimo il mio orticello allora partiamo da quest'angolo qui queste sono tutte piante di pomodori vedete questo invece si vede perfettamente che è basilico questi invece sono dei peperoncini carolina ribes questi sono peperoncini piccanti questi sono due tipi di pomodori due piante di pomodori differenti questa è una terza pianta di pomodoro questo è il ciliegino che conoscete tutti vedete questi sono già maturi tra qualche giorno matureranno anche quelli ok quindi giusto due giorni faremo uno spaghettissimo col pomodorino fresco questi sono altri pomodori altri pomodori come quelli andiamo di qua che vi mostro anche quest'altra pianta di spezie vedete rosmarino ok e questa è la magnifica pianta di basilico pensate ragazzi che qua sono partiti da un rametto così guardate cosa è diventata fantastica guardate queste foglie bellissime quindi domani pesto questo